Siamo in compagnia del maestro insegnito di questa sera, del Premio Zeus. Come si chiama e da dove viene? Buongiorno, sono Carole Leclerc, vengo da Blois, in Francia. Sono professore di teatro all'instituzione Sainte-Marie de Blois. Mi insegno il teatro, mi trasmetto e scrivo, mi metto in scena in modo professionale con i bambini e i bambini. Il teatro è la vita, siamo a Lecce, nel cuore del teatro. Lecce è magnifico, è una bella ville e sono molto felice di poter essere qui oggi con voi. Grazie. Grazie a lei, ci vediamo questa sera. A questo giorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Sono molto honore per l'Accademia del Narte del Mondo, che io ringrazio. Per la seconda volta, io vengo a Lecce, in questa bella ville dove l'art transpire, dove c'è un souffle, come un souffle divino. E' un reparo rechargé. D'ailleurs, c'è quello che tutti gli artisti hanno detto questo giorno. Allora, siamo tutti portati di qualcosa di bello, la paia, l'amore, la foi. Allora, c'è questo che noi... Allora, se tutti pratica un art, non c'è più di guerra nel mondo. Allora, l'art, c'è questa piccola, l'espoir, l'amore, l'amore. Allora, quale che sia l'art, non c'è l'art, non c'è l'amore. E quindi, io dedico tutto ciò a tutti gli studenti che ho avuto, tutti gli studenti che mi piace, che sono adesso dei grandi, dei comediati, dei comediati. E io terminerai simplement par ancora una piccola citazione, una delle mie. Le mots sono dei joyeux dans l'escrin di la connessione. Buona giornata. Buona giornata.